Se ce l'abbiamo ancora in testa allora cancelliamocela perché bisogna voltare pagina, bisogna dare continuità, non deve essere stato solo questo tipo di partita fatta perché era contro il Barcellona ma bisogna continuare su questa voglia, con questo ritmo perché adesso c'è il campionato e quindi bisogna pensare a fare meglio in queste ultime quattro partite.